La segnalazione Anticipazioni uomini e donne, Sabrina presa in giro? La segnalazione Sabrina Aghio in crisi per una segnalazione a UED. Una segnalazione inaspettata turberà gli equilibri nel trono classico di uomini e donne. Maria De Filippi tornerà oggi pomeriggio al timone del dating show di Canale 5. Sabrina Aghio, Mattia Marciano, Alex Migliorini e Paolo Crivellin saranno i protagonisti dell'appuntamento del martedì. Riflettori accesi in particolare sul trono rosa e quello gay. I colpi di scena non mancheranno nella puntata odierna di Uomini e Donne. In particolare Gianni Sperti riporterà una segnalazione, con tanto di foto, che turberà l'ex ballerina di Amici. L'opinionista parlerà di quanto proferito da una ragazza. La persona in questione avrebbe visto Nicolò Fabri in atteggiamenti intimi con una donna. Una serie di foto mostrate in studio, confermerebbero l'uscita del corteggiatore con amici e amiche. Tra Nicolò e Sabrina si accenderà un diverbio. Il 23enne sottolineerà di non aver fatto nulla di male e di essere semplicemente uscito con la sua comitiva. La ragazza, con cui sarebbe stato fotografato, sarebbe perciò soltanto un'amica e nulla di più. Nonostante le rassicurazioni, Sabrina Ghiot continuerà ad avere seri dubbi nei confronti del giovane corteggiatore. Già in passato l'attivismo social di Nicolò e l'invita a uscire fatto agli altri corteggiatori, non sarebbero piaciuti alla 32enne romana. Uomini e donne, Sabrina Ghiot delusa da un corteggiatore, ecco perché. Le anticipazioni di Uomini e donne svelano che dopo la preferenza mostrata da Sabrina Ghiot per i due Nicolò, oggi la tronista sottolineerà di avere seri dubbi nei confronti di Fabri. A sollevare le insicurezze dell'ex ballerina di Amici sarà la segnalazione riporta da Gianni Spetti. Tina Ghiot ammetterà oggi in puntata di temere che Nicolò Fabri non sia realmente interessato a lei. Di tutt'altro sapore sarà invece l'esterna con Rangiolo. La tronista sottolineerà che i suoi preferiti sarebbero al momento proprio i due Nicolò, mentre Fabrizio, nonostante incarni tutti le caratteristiche dell'uomo ideale per Sabrina, sarebbe leggermente indietro. Al centro della puntata di oggi pomeriggio di Ue ci sarà anche Alex Migliorini. L'esterna con Matteo stupirà a tutti. Tra i due ci sarà un avvicinamento decisamente inatteso. Alex sottolineerà però che Alessandro è iniziato a dargli certezze. In studio non mancherà un duro confronto tra Claudio e il corteggiatore partenopeo. L'appuntamento perciò con Uomini e Donne è alle 14.45 su Canale 5. e i Ciao